Quella che abbiamo alle spalle è stata una settimana, credo, importante. Una settimana nella quale abbiamo fatto tutti quanti un passo in avanti verso la normalità nella vita del nostro Paese. Qui ci siamo mossi secondo il modello Campania. Il modello Campania consiste in tre obiettivi. Aprire tutto, ma per sempre. Cioè aprire tutte le attività economiche senza fare poi i passi indietro. Tutelare la vita delle nostre famiglie e delle persone più deboli. E dare un aiuto alle fasce deboli della nostra popolazione, oltre che alle imprese in difficoltà. Aprire tutto, ma per sempre. Tutelare la vita, dare una mano alla povera gente o alle imprese in difficoltà. Questo è il modello Campania. E abbiamo cercato ancora in questa settimana di muoverci come ci siamo mossi per il passato. In maniera ordinata e semplice. Ordinata e semplice. Devo dire che in queste settimane è sembrato capovolgersi il ruolo fra regioni del sud e quelle del nord. E' sembrato per qualche verso che gli comportamenti più rigorosi venissero dal sud e qualche elemento di ammoina venisse dal nord. E' un altro degli elementi di novità che abbiamo registrato in questa crisi. Una settimana importante che abbiamo alle spalle. Credo che sia doveroso a parte mia chiarire un elemento di confusione che si è determinato all'inizio della settimana in occasione dell'approvazione dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri quando gli organi di informazione hanno comunicato che la Campania non firmava l'accordo con il governo. Non c'era assolutamente niente da firmare. La Campania ha posto due problemi. Uno piccolo, relativo all'apertura il lunedì. E uno grande, relativo al ruolo fra le regioni e lo Stato. Allora, incredibilmente, nella comunicazione pubblica è stata quasi capovolta la realtà. La realtà è questa. La regione Campania ha difeso l'unitarietà dello Stato italiano contro la tendenza alla frantumazione in 20 regioni staterelli. Mi pare una posizione semplice che tuttavia non è emersa. Vi spiego che cosa è successo. Noi dovevamo decidere, una settimana fa, siccome era stata annunciata l'apertura per il giorno 18, quale istituzione dovesse certificare lo stato dell'epidemia. Se questa certificazione dovessero farla 20 regioni o dovesse farla lo Stato italiano, cioè il Ministero della Salute. La Campania ha sostenuto che dovesse essere il Ministero della Salute a dire qual era lo stato dell'epidemia. La regione può certificare lo stato dell'epidemia nell'ambito della regione, non fuori regione. E in ogni caso dobbiamo sapere che quello che decide una regione ha una ricaduta su tutto il resto del paese. Quindi non si può dire ogni regione decide qual è lo stato dell'epidemia, ma deve essere lo Stato centrale a decidere qual è lo stato dell'epidemia. Questo è stato il motivo del distenso. E incredibilmente la regione Campania ha difeso il ruolo del Ministero e dello Stato centrale contro la spinta alla frantumazione regionale e il governo ha delegato invece le regioni a decidere quale fosse lo stato dell'epidemia regione per regione. E' incredibile, è paradossale, ma è così. Allora la regione Campania ha dimostrato per l'ennesima volta coerenza. Quando si è discusso un anno fa, due anni fa, dell'autonomia differenziata, la regione Campania ha detto con estrema chiarezza che in due campi bisogna mantenere indiscutibilmente l'unità nazionale, e cioè sistema sanitario nazionale e sistema scolastico e formativo nazionale. La scuola è il luogo decisivo per la formazione della coscienza nazionale, la sanità il ruolo decisivo per garantire l'uguale diritto dei cittadini italiani alla salute dal Piemonte alla Sicilia. E in coerenza con questa posizione ci siamo mossi anche una settimana fa. Allora io sono convinto che le regioni debbano gestire tutta la sanità. Le regioni hanno salvato l'Italia al di là di tutte le chiacchiere. Non sarebbe stato possibile gestire da Roma i sistemi sanitari. Sarebbe stato un disastro. Ma lo Stato centrale non può rinunciare alle sue funzioni rispetto a due obblighi. Primo, ripeto, garantire l'uguale diritto alla salute per tutti i cittadini italiani. E secondo, in caso di epidemia, decide lo Stato centrale, non le singole regioni. Se il 3 giugno si apre la mobilità interregionale, chi decide? La singola regione. È evidente che quando si prende una decisione del genere la ricaduta è su tutto il resto del Paese. Ho avuto modo di apprezzare le ultime dichiarazioni del ministro Boccia, che ha detto che in relazione alla prevista apertura della mobilità interregionale il 3 giugno, la cosa non è scontata ma è subordinata ad una valutazione della situazione epidemiologica. È una posizione ragionevole che mi convince. Allora, primo punto, ruolo delle regioni, ruolo dello Stato. La Campania ha difeso l'unità nazionale, perfino contro l'orientamento del governo, che ha invece delegato alle singole regioni il compito di decidere se c'era l'epidemia. Poi ovviamente avremo modo di fare la battaglia contro il governo e il Ministero della Salute per tentativi di rigurgiti centralistici e burocratici. Ma in quel caso abbiamo difeso l'unità nazionale. Secondo punto di differenziazione della Campania. Il governo aveva annunciato già da mercoledì-giovedì, per bocca del Presidente del Consiglio, che lunedì 18 aprivano praticamente tutte le attività in Italia. O quasi tutte. Avevamo detto al governo fateci avere per mercoledì, massimo giovedì mattina, le linee guida, i protocolli di sicurezza, in maniera tale da dare il tempo ai diversi soggetti economici di prepararsi per lunedì 18. Siamo arrivati al punto che i protocolli di sicurezza e le linee guida il governo li ha emessi domenica sera. Cioè domenica sera si decidono le linee di sicurezza per il lunedì mattina. È evidente che sarebbe stato poco serio e perfino irresponsabile aprire in queste condizioni. E dunque la Regione Campania ha ritenuto riprendersi altri quattro giorni di tempo per dare modo ai ristoratori, ai vari soggetti economici, di adeguarsi alle linee guida e ai protocolli di sicurezza pubblicati domenica sera dal governo. Dunque la Campania ha dato una prova di coerenza, di difesa dell'unità nazionale e di serietà. Si apre dando il tempo agli operatori di prepararsi in maniera seria, non facendo ammuina o facendo finta, ma facendo cose serie. Mi piace richiamare questa vicenda per ribadire che in Italia c'è almeno una istituzione che mantiene una linea di coerenza nelle sue iniziative e nelle sue azioni. Questa istituzione è la Regione Campania. Allora, noi nei confronti del governo abbiamo una posizione di rispetto, di sostegno. Io credo debba essere sostenuto il governo. Con questi chiari di luna aprire altri problemi sarebbe davvero irresponsabile. Ma abbiamo alcune questioni sulle quali il governo deve rispondere in maniera chiara. La prima questione si è posta ieri. Le zone rosse. Il governo decide di prendere delle misure per le zone rosse decise dal governo, non dalle regioni. È evidente che questo taglierebbe fuori alcune zone rosse che hanno pagato un prezzo. Per quello che riguarda la Campania, l'area di Ariano Ilpino, l'area del Vallo di Diano, Sala Consilina e quant'altro. Abbiamo detto al governo che questo orientamento è totalmente sbagliato e deve essere cambiato. Quindi le misure di ristoro economico devono riguardare non solo Bergamo, Brescia, Lodi e quant'altro, ma anche, per quello che riguarda la Campania, le zone rosse che abbiamo deciso di aprire qui in Campania, come in altre regioni d'Italia. Primo contenzioso, aspettiamo risposte dal governo. Secondo, noi dobbiamo avere dal governo, dal Ministero dell'Economia, 240 milioni di euro che sono stati incamerati illegittimamente molti anni fa dal Ministero dell'Economia. Stiamo ancora aspettando che qualcuno si decida a sbloccare questi fondi. Consideriamo irresponsabile tenere bloccati 240 milioni di euro con questi chiari di luna. La domanda che pongo io al governo, ma quale credibilità può avere l'annunciata misura di sburocratizzazione se abbiamo bloccato 240 milioni avendo la possibilità di sbloccare queste risorse in mezz'ora, perché questo avverrebbe in un Paese serio. Finché non si sblocca questa palude burocratica, le intenzioni del governo per quello che ci riguarda non avranno nessuna credibilità, perché questa è la prova che si parla ma non si decide. Quindi noi continueremo a fare una battaglia, anzi la intensificheremo fino a che non sbloccano queste risorse. Sono della Campania come ha certificato una sentenza della Corte dei Conti e stanno continuando a perdere tempo. Ho investito del problema il Presidente del Consiglio e mi auguro di avere una risposta concludente in tempi rapidi. Terzo motivo di contenzioso con il governo si approva un decreto e è in discussione alla Camera, un decreto, non mi ricordo come si chiama, rilancio, ripresa, va bene. I titoli dei decreti in Italia ormai sono delle poesie, non sono temi. Bene, il decreto poetico per il rilancio, la ripresa contiene una misura di 3 miliardi e 100, 3 miliardi e mezzo per la sanità. Bene, la Campania chiede che questa occasione sia utilizzata per riequilibrare il riparto delle risorse sanitarie fra le regioni. Voi sapete, l'ho detto parecchie volte, che la regione Campania è la regione che riceve meno di tutte le regioni nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. La Campania riceve 45 euro pro capite in meno rispetto alla media nazionale. abbiamo proposto che sia almeno dimezzato questo divario rispetto alla media nazionale. Abbiamo assunto quindi una posizione di grande responsabilità. Verificheremo nei prossimi giorni se il governo, le forze politiche, i chiacchieroni di tutta Italia, i sovranisti avranno la decenza di compiere un atto di civiltà e di correttezza istituzionale. E di questo vi terremo informati. Dunque, il contenzioso riguarda le zone rosse, il riparto sanitario e i 240 milioni di euro rapinati alla Campania dal Ministero dell'Economia. È la prova che aspettiamo per verificare se fanno sul serio nell'impegno di sburocratizzazione. Aggiungo a questo i problemi della Cassa Integrazione. La regione Campania è la regione che ha istruito prima di tutte le regioni d'Italia le pratiche relative alle richieste di Cassa Integrazione in deroga. Mancano all'appello almeno 40-50 milioni di euro. Chiedo al governo di trovare e derogare queste risorse. Ne approfitto ovviamente per rinnovare la mia solidarietà ai lavoratori del Centro per l'impiego di Avellino che sono stati oggetto di un attentato ignobile grave pericoloso. Chiedo ovviamente alla magistratura e alle forze dell'ordine di individuare i colpevoli di questo gesto infame. ne approfitto nel frattempo per ringraziare tutti i nostri dipendenti dei centri per l'impiego per il lavoro straordinario che hanno fatto ma non oggi da mesi da quando abbiamo varato il piano per il lavoro della regione Campania su cui dirò qualcosa più in avanti. Ringrazio i dirigenti del settore ci aspettiamo le misure economiche necessarie per garantire la Cassa Integrazione non dipende dalla regione Campania. e ne approfitto per ringraziare anche le centinaia le migliaia di persone impegnate nella protezione civile e anche di volontari che ci stanno dando una grande mano nella gestione di tutti i problemi legati all'emergenza sanitaria in qualche caso senza aver ricevuto ancora il ristoro per le spese che hanno sopportato provvederemo ovviamente a brevissimo anche a questo ma intanto ne approfitto per ringraziarli dunque il contenzioso con il governo è limitato a questi problemi di merito poi aggiungo solo una cosa che per quanto riguarda la sburocratizzazione io ho un altro elemento di verifica sulla serietà di questi impegni ed è l'eliminazione della figura di reato di abuso in atto d'ufficio relativo alla pubblica amministrazione e agli amministratori locali se non tolgono di mezzo questa idiozia non si sburocratizzerà niente ve lo dico subito come sapete noi abbiamo in Italia nell'ambito della legge severino questo ignobile articolo di legge che prevede che un dirigente pubblico condannato in primo grado per abuso in atto d'ufficio si rovina la vita cioè riceve il dimezzamento dello stipendio in maniera automatica viene trasferito a servizi non operativi e demanzionato voi pensate che in queste condizioni un qualunque dirigente pubblico firmerà più una carta non firmerà un accidente di niente dovete anche sapere che questa legge vale per i dirigenti pubblici per gli amministratori locali ma non vale per i deputati senatori i ministri i viceministri i sottosegretari il presidente del consiglio cioè una legge a favore della casta ma quelli che hanno saltato in piazza per dieci anni contro la casta questo privilegio continuano a tenerlo in piedi dunque agli amici del governo ribadisco questa è la cartina di tornasole per verificare se si va veramente verso la sburocratizzazione o si continua a produrre chiacchiere assolutamente inutili per quello che riguarda la regione campania abbiamo i due capitoli che vi ho detto quello di un piano socio-economico e quello sanitario piano socio-economico e ripresa delle attività ribadisco ancora una volta che siamo l'unica regione d'italia vorrei che questo fosse chiaro ai nostri concittadini e fosse motivo di orgoglio l'unica regione ad avere approvato un piano socio-economico del valore di quasi un miliardo per dare sostegno alle imprese alle micro-imprese in difficoltà ai professionisti alle famiglie ai pensionati alla povera gente l'unica e lo stiamo facendo dando una prova eccezionale di rapidità e di efficienza amministrativa cioè facendo arrivare i soldi in tasca ai cittadini alle imprese allora per quello che riguarda il piano economico della regione campania abbiamo pagato per quanto riguarda le imprese centomila mandati di pagamento abbiamo centoventimila richieste per le imprese per ottenere i due euro imprese al di sotto dei centomila euro di fatturato attendiamo ovviamente che si completi questo pagamento ma la prossima settimana avremo completato tutto centoventimila mandati di pagamento per duemila euro non programmati ma mandati sui conti correnti per quanto riguarda i professionisti con tributo di mille euro abbiamo pagato quasi 40.000 fatto 40.000 mandati di pagamento per 62.000 professionisti attendiamo che le casse di previdenza mandino la documentazione che manca per gli altri 20.000 i mandati di pagamento che abbiamo fatto a professionisti che hanno fatturato al di sotto dei 35.000 euro hanno coperto le domande di biologi psicologi giornalisti infermieri consulenti del lavoro ragionieri geometri agronomi periti industriali mancano ancora ripeto i riscontri delle casse per i medici odontoiatri l'empam e dell'ex emples per quanto riguarda i lavoratori e lo spettacolo appena ci arriva questa documentazione facciamo altri 17.000 mandati di pagamento per le famiglie per le famiglie abbiamo fatto 26.000 mandati di pagamento per le famiglie che hanno bambini al di sotto dei 15 anni 500 euro per le famiglie con i sé inferiore fino a 20.000 euro 300 per famiglie con i sé fino a 30.000 euro le domande sono state 230.000 arriveremo fin dove abbiamo le risorse per coprire queste domande ma stiamo parlando ormai di centinaia di migliaia di persone di famiglie di imprese a cui stiamo dando un aiuto caso unico in Italia per quanto riguarda gli studenti universitari e quelli dei conservatori un contributo di 250 euro per chi ha un'isè al di sotto dei 13.000 euro abbiamo già fatto 13.000 mandati di pagamento con l'Adisurc per le famiglie con disabili non gravi un contributo di 600 euro famiglie anche con bambini autistici abbiamo fatto 18.000 mandati di pagamento stiamo partendo con partiremo questo mese con il contributo integrativo per gli stagionali e il turismo 300 euro per le aziende agricole dal 20 di questo mese è aperta la possibilità di fare la domanda tramite i centri di assistenza agricola i CAE e dal 21 per le imprese della pesca e dell'acqua cultura poi come sapete abbiamo dato contributi anche ad altri comparti che erano rimasti un po' ai margini 3.000 tassisti 1.500 dipendenti NCC autisti di scuola bus stiamo cercando di dare una mano agli stagionali non solo del turismo ma anche del trasporto turistico marittimo circa 1.000 dipendenti autisti 1.500 aeroportuali altri 500 cioè lavoratori stagionali la cui attività era legata comunque al funzionamento degli aeroporti dei porti e quant'altro stiamo facendo davvero uno sforzo immane immane per dare un aiuto per quanto possibile a quanti più nostri concittadini e fare in modo che alla crisi sanitaria non si aggiunga in Campania una crisi sociale anche da questo punto di vista siamo la regione più delicata e complessa d'Italia per il livello di disoccupazione giovanile e di livello di reddito pro capite che abbiamo in Campania aggiungo che da fine maggio parte il primo aumento per le pensioni al minimo che vengono portate a mille euro con il contributo della regione poi ci sarà la seconda mensilità per il mese di giugno quindi maggio e giugno i pensionati a 450 euro si vedranno arrivare una pensione di mille euro aggiungo ancora che per quanto riguarda il concorso per i 10.000 occupati della regione Campania voi ricordate che abbiamo avuto questo concorso alla fine dello scorso anno sempre per creare lavoro questo concorso ha concluso la prima fase che riguardava 3.000 giovani che hanno partecipato al concorso la cosa si è sospesa con l'epidemia ci sono stati dei ricorsi bene a inizio giugno 47 candidati che hanno fatto ricorso e sono stati riammessi faranno le prove suppletive fra l'8 e il 14 giugno e quindi fra giugno e luglio andranno a lavorare oltre 2.000 2.300 giovani che hanno fatto il concorso della regione Campania cominceranno ad andare presso i comuni le corti di appello di Napoli di Salerno le aziende pubbliche è un altro miracolo campano sono i primi 3.000 posti di lavoro veri che partono con un anno di formazione pagato dalla regione Campania a 1.000 euro al mese e che porta alla fine dell'anno alla occupazione a tempo pieno faremo ovviamente incontri anche con questi candidati per spiegargli bene come andiamo avanti in attesa di fare appena possibile una seconda prova concorsuale per altri 3.000 5.000 giovani da mandare a lavorare negli enti locali in più l'EAV l'azienda di trasporto della regione Campania procede con altre 200 assunzioni nei prossimi due mesi per arrivare quindi a quasi 450 credo 500 nuovi assunti giovani presso l'EAV stiamo ragionando anche su un piano di utilizzo dei terreni del demanio regionale che potrebbero dare sbocchi lavorativi per altri 4.000 giovani nella gestione di terreni agricoli questa è un'ipotesi che stiamo studiando quando sarà pronta e definita vi daremo notizie più certe aggiungevo quindi al piano socio-economico il piano per il lavoro cioè i concorsi che abbiamo fatto per tempo che danno risposte e cambiano la vita a migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi della nostra regione per quanto riguarda le attività che sono ripartite il 18 è ripreso quasi tutto come sapete abbiamo aperto ieri ristoranti pizzerie senza limiti di orario ovviamente con le norme di sicurezza che vanno rispettate ci siamo preoccupati di produrre anche un piccolo video per spiegare con il cucciaino quello che bisogna fare per il distanziamento per la sicurezza e quant'altro credo che prenderemo in questa settimana fra oggi domani dopo domani altre decisioni che riguardano le piscine e le palestre bed and breakfast vorremmo partire già dal 25 con bed and breakfast e attività degli alberghi con i centri termali per l'apertura degli zoo che abbiamo in Campania 2 Napoli e Pietrelcina credo apriremo per le attività da di porto e per la possibilità di andare in barca per i residenti campani quindi daremo questa possibilità anche per le isole visto che è consentita per i porti della fascia costiera autorizzeremo anche gli stabilimenti balneari credo già da questa settimana teniamo bloccata la Movida chiusura dei baretti della Movida alle 23 di sera abbiamo visto quello che è successo e che era ampiamente prevedibile io credo che noi dobbiamo cogliere l'occasione dell'epidemia anche per spiegare a tutti quanti noi e anche a tanti giovani che nessuno può immaginare che tornare alla normalità possa significare tornare a fare esattamente quello che facevamo prima nel corso di questi anni dobbiamo avere l'onestà e il coraggio di dirlo anche a tanti giovani sono andati crescendo comportamenti irragionevoli è cresciuta una massificazione alienante anche per il divertimento per la socializzazione dobbiamo cogliere questa occasione per avere di sera meno droga meno pasticche anzi nessuna pasticca dobbiamo cancellare l'abitudine a rincretinirsi con l'uso di superalcolici che mandano mandavano nelle nottate fra sabato e domenica in coma etilico decine di ragazze e ragazze di 13 anni nei pronto soccorsi dei nostri ospedali in coma etilico a 13 anni ovviamente non dobbiamo generalizzare per l'amor di Dio ma questi fenomeni hanno assunto una dimensione impressionante non sono piccoli episodi la vendita di superalcolici cioè di porcherie che bucano lo stomaco ai ragazzi di prodotti provenienti da non si sa dove anche per comportamenti irresponsabili di gestori di questi bar che pur di guadagnare 10 euro in più non hanno esitato spesso a rovinare la vita dei giovani ripeto sarebbe sbagliato generalizzare abbiamo anche tanti gestori di bar e di barretti che sono persone corrette ma abbiamo visto crescere una percentuale enorme incontrollata di gente senza scrupoli disponibili a rovinare anche un'intera generazione per 10 euro in più allora vediamo di capirci noi dovremo riprendere anche queste attività per adesso no finché non avremo forme di controllo anche serio ed effettivo da parte delle forze dell'ordine voglio aprire una parentesi ho avuto notizia che ieri mi pare a Napoli c'è stato un intervento da guardia di finanza in un ristorante credo sul lungomare dove c'era un assembramento ai tavoli io vorrei chiedere un impegno massiccio delle forze dell'ordine e quindi sollecito il ministero dell'interno a dare direttive rigorose per il controllo nell'uso delle mascherine e degli assembramenti notturni allora anche qui parliamoci con grande chiarezza se dobbiamo avere un paese nel quale rispetto a questi fenomeni tutti quanti giriamo la testa all'altra parte questo paese prima o poi ritornerà nel disastro dell'epidemia o decidiamo di fare tutti un controllo rigoroso oppure prima o poi i problemi si riproporranno ho visto che il capo della polizia Gabrielli ha dato mandato alle forze di polizia di avere un atteggiamento di maggiore rigore io chiedo che sia pubblicata ogni giorno la lista delle ammende fatte a chi non indossava la mascherina io non chiedo ovviamente che le forze dell'ordine stiano dalla mattina alla sera a fare questo lavoro devono farlo in primo luogo le forze delle polizie municipali ma credo che se ogni agente di pubblica sicurezza ogni carabiniere ogni finanziere fa dieci ammende al giorno agli irresponsabili non toccheremo tutti quelli che non hanno senso civico ma daremo una mano a contenere il fenomeno sono mesi decisivi per fare in modo che quello che riapriamo rimanga aperto per sempre e la vita dei nostri cari sia tutelata chiedo davvero a tutti uno sforzo straordinario aggiungo che noi faremo una campagna anche di promozione turistica si celebra l'anniversario dell'arrivo a Ravello di Wagner stiamo producendo un video promozionale ci sarà Alessandro Preziosi che leggerà un testo credo i Wagner avremo uno spettacolo di Eleonora Bagnato avremo un grande soprano che interpreterà Casta Diva e qualche altro brano lirico cercheremo di produrre un video da proporre anche sulle emittenti televisive della Germania parliamo di Wagner vogliamo utilizzare il brand Campania Sicura per promuovere il turismo in Campania per spiegare che chi viene è la nostra regione viene in una terra benedetta da Dio Campania Divina è lo slogan che riguarda il turismo campano e in questo caso Campania Sicura quindi cominciamo con questo episodio di Ravello la campagna di promozione turistica internazionale della regione Campania stiamo completando tutto un lavoro di accertamento anche epidemiologico ma è chiaro che se vogliamo dare capacità di attrazione alla regione Campania dobbiamo essere davvero una regione pienamente sicura per questo bisogna essere rigorosi per quanto riguarda la Movida noi dobbiamo cogliere questa occasione per umanizzare i momenti di incontro dei ragazzi fare in modo che non si rincretiniscano la sera fare in modo che non ci siano solo rumori a muina al punto che non si riesce più né ad ascoltarsi né a parlarsi né a parlarsi e poi cogliamo l'occasione cambiando tanti comportamenti per sviluppare non solo una campagna per avere l'epidemia zero ma per avere anche cafoneria zero ecco vorremmo far partire una campagna a questo punto anche di valore internazionale no boor cafoni zero sarebbe questa una bella occasione per far crescere anche lo spirito civico e soprattutto per umanizzare i momenti di incontro e anche di divertimento per umanizzarli non per renderli più alienati e alienanti finisco rapidamente sulla situazione sanitaria abbiamo avuto ieri dieci contagi di questi dieci quattro erano ancora di Ariano Irpino abbiamo avuto ieri dieci contagi con circa 6.000 tamponi ormai viaggiamo sui 5-6.000 tamponi al giorno abbiamo messo in piedi una macchina davvero molto importante siamo arrivati ormai a 161.000 tamponi per quanto riguarda Ariano Irpino come sapete abbiamo deciso di spegnere definitivamente questo focolaio questi quattro contagi positivi che abbiamo trovato ieri sono l'ultima coda dei controlli che stiamo facendo io voglio rivolgere un saluto ed un ringraziamento a tutti i cittadini di Ariano che hanno collaborato a fare un'operazione unica in Italia questa operazione di test sierologici a 15.000 cittadini non si è fatta in nessuna parte d'Italia i risultati li pubblicheremo credo domani mattina sabato li metteremo a disposizione dell'intero paese perché è un test di grandissimo valore scientifico per capire chi dove come ha avuto contatto con il virus anche nei mesi passati quali fasce di popolazione sono state maggiormente aggredite quindi metteremo a disposizione i risultati scientifici di tutto il nostro paese ho ringraziato i cittadini di Ariano ovviamente siccome credo che dobbiamo parlare chiaro non ringrazio quella decina di irresponsabili che ad Ariano ha determinato questo problema grave gravissimo sapete come abbiamo cominciato ad Ariano già inizio febbraio abbiamo cominciato con una festa di carnevale organizzata da una scuola paritaria diretta da un ordine religioso con la partecipazione di oltre 200 persone quella festa di carnevale illegittima non era consentito ha portato ad un contagio che ha coinvolto le suore del convento l'istituto scolastico e l'intera curia vescovile poi vi è stata una cerimonia familiare che si è tenuta a Villanova del Battista a fine febbraio con la partecipazione di un'altra settantina di persone di 5 nuclei familiari di Ariano Erpino ma anche di comuni vicini che poi sono andati in giro allegramente poi il gestore di un bar uno dei primi quattro casi positivi che è andato a Milano a trovare un familiare poi è tornato ha continuato a lavorare nel suo bar contagiando clienti e via dicendo e abitanti frequentatori abituali del bar poi all'ospedale Francipane di Ariano è andato in giro un medico la moglie che erano positivi allegramente nell'ambito dell'ospedale determinando problemi anche nell'ospedale poi abbiamo avuto una struttura sanitaria privata e un centro di riabilitazione all'interno dei quali si sono verificati 31 casi tra gli ospiti e 7 tra gli operatori cioè abbiamo avuto una successione di comportamenti irresponsabili illegali per i quali ovviamente abbiamo interessato anche la magistratura perché questi irresponsabili hanno determinato un danno immenso in primo luogo alla comunità di Ariano poi a tutta la comunità della provincia irpina quasi il 40% dei contagi nella Vellinese allora abbiamo deciso di spegnere definitivamente questo focolaio abbiamo fatto un lavoro massiccio stiamo per quelli che risultano positivi concludendo i tamponi i quattro di ieri sono veramente l'ultimo residuo stasera avremo gli ultimi risultati ma a questo punto veramente abbiamo fatto un lavoro a tappeto per spegnere definitivamente questo focolaio ovviamente ne approfitto per dire che non sono consentite le feste a casa non sono consentite al di là della movida e degli assembramenti che non sono consentiti ho voluto dirvi queste cose per un dovere di sincerità e di lealtà e perché dobbiamo sapere che da oggi in poi ci salviamo se ci saranno comportamenti individuali corretti perché non potremo controllare tutto e diavolo tutelate almeno i vostri figli e i vostri padri e le vostre madri altro che feste festini e carnevale pippe varie allora abbiamo completato questo screening presenteremo i risultati stiamo completando i tamponi abbiamo già fatto lo screening rapido ma dobbiamo fare i tamponi a tutto il personale sanitario noi dovremo fare attenzione soprattutto ai pronto soccorsi perché da dopo il 4 maggio ovviamente abbiamo una mobilità diffusa e soprattutto nei più grandi ospedali penso al Cardarelli arrivano migliaia di persone quindi dobbiamo fare una grande attenzione e dobbiamo controllare nei prossimi giorni come vanno le cose abbiamo deciso di fare una riunione con i medici pediatri credo mercoledì prossimo in vista dell'apertura e l'anno scolastico vogliamo capire con l'ordine dei medici e con i pediatri come muoverci presenteremo domani un programma credo domani e prossimi giorni un programma di sostegno alla ricerca sul covid 7 milioni di euro che daremo ai ricercatori e la campania per dare una mano a contrastare sul piano scientifico anche il covid quindi presenteremo il piano di monitoraggio e di screening generale nella regione campania il piano della ricerca i risultati del piano dei test virologici che test sierologici che abbiamo completato come modello regionale e nazionale di test sierologici in maniera davvero massiccia ad Ariano Irpino è un esperimento che in queste dimensioni non è stato fatto in nessuna parte d'Italia finisco qui guardiamo con fiducia al futuro ma comportamenti responsabili uso della mascherina distanziamento sociale è un piccolo sacrificio che continuiamo a chiedervi più verrà il caldo più sarà fastidioso ovviamente indossare la mascherina ma non abbiamo alternative noi dobbiamo arrivare a zero contagi non so se è chiaro poi ci potrà essere la settimana successiva un contagio due ma dobbiamo azzerare il numero di persone che vengono contagiate ogni giorno è chiaro o no questo anche perché non sappiamo che cosa succederà fra settembre ottobre quando avremo anche l'influenza che camminerà correrà ovviamente allora io vi chiedo di aiutarci ad aiutarvi quando prendiamo queste misure non lo facciamo mai a cuore io vorrei domandare a un padre di famiglia una madre di famiglia voi al posto mio che cosa fareste quando vedete le immagini di migliaia di ragazzi senza mascherina che si affollano che cominciano a bere tutti dallo stessa bottiglia voi che cosa fareste per dirvi che anche quando prendiamo delle decisioni lo facciamo per essere uomini per non fare gli opportunisti per tutelare in primo luogo la vita dei nostri figli dei nostri cari e per impedire che si ritorni Dio non voglia alla chiusura di tutto dateci una mano siate responsabili se sarà così vedrete che noi usciremo fuori ma davvero a testa alta e con grande serenità da questa epidemia un saluto affettuoso a voi e alle vostre famiglie grazie 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 a